Con questo segreto su Roblox potrai avvistare anche tu la Dancing Serbian Lady Prima di partire però se lo vuoi scoprire clicca sul tasto rosso iscriviti Ti lascio 3 secondi 3, 2, 1 Ok, buona visione E andando all'interno dell'inventario Se riusciamo a trovare la sleeping bag Che sarebbe praticamente una specie di roba per dormire Eccola ragazzi, teoricamente dovrebbe essere questa La sleeping bag La dobbiamo piazzare praticamente qua sopra Ok, e guardate adesso che succede signori Se noi clicchiamo qua, ok, ok Spuntiamo direttamente all'interno del tetto